Dai dati diffusi ieri dall'unità di crisi della regione Campania si apprende che due casi positivi sono stati rilevati al laboratorio dell'ospedale Ruggi di Salerno dove hanno esaminato 522 tamponi. Sono nove le persone rispetto alle 15 del giorno precedente, risultate positive ieri in Campania al Covid-19. In tutto sono stati esaminati 3.568 tamponi. Il totale dei positivi di regione sale a 4.639, mentre i tamponi eseguiti in Campania dall'inizio dell'epidemia sono 127.938. In Campania finora le persone guarite sono in totale 2.421, di cui 74 nelle ultime 24 ore. Dall'inizio dell'epidemia sono decedute 394 persone, in particolare una donna incinta positiva al Covid-19 ricoverata all'omberto primo di nocere inferiore. La paziente di Angri è alla quarantesima settimana ed è stata subito messa in isolamento nel reparto Covid-19 in quanto ritenuta sospetta. Ieri sera la conferma della positività. Fondamentale è la collaborazione del pronto soccorso con i reparti di riferimento dei pazienti, in questo caso quello di ginecologia. Adesso i camici bianchi stanno valutando se far partorire la donna in ospedale o trasferirla al policlinico. Il sindaco di Angri, Cosimo Ferraioli, sulla sua pagina Facebook appostato, mi ha contattato la sala operativa dell'unità di crisi della proiezione civile della regione Campania, comunicandomi che un nostro concittadino è risultato positivo al test Covid-19. Si tratta di un nuovo focolaio. Grazie.